Mozart giunge in un momento molto importante per l'Accademia perché si stanno proprio realizzando quelli che erano i programmi innovatori dell'istituzione voluti da Maria Teresa, in particolare dal governo di Vienna e agevolati naturalmente dai rappresentanti della Lombardia e della città di Mantua. Quindi in quel momento è appena stato terminato il Teatro Bibiena che tutti conoscono che è uno splendido esempio di architettura tardo-barocca ma le autorità competenti pensano già di superare questo momento culturale e di avviare una nuova stagione delle arti che guardi alla storia, alla storia romana in particolare e che dia i fondamenti anche in ambito scientifico per un'attività utile ai cittadini. Qui abbiamo il momento dell'inaugurazione del Teatro Scientifico che si avvicina a quel, anzi viene compiuto quando quel rinnovamento di cui parlavo era già in corso. Arriverà Mozart un mese dopo o poco più dell'inaugurazione del Teatro Bibiena e questo è l'aspetto più importante di questa mostra. Il momento principale dei dieci giorni di Wolfgang in Leopold in città segnato da tanti incontri, da tanti momenti privati del far musica ha avuto il suo apice proprio il 16 gennaio 1770. Quella sera nel Teatro Scientifico, perché così si chiamava, Wolfgang fa una prestazione, dà una prestazione di assoluto stupore per tutti, di improvvisazione, di virtuosismo al clavicembalo, di canto, di violino, per cui si comincia a parlare di genio. Questa accademia, l'Accademia Nazionale Virgiliana, che è l'erede in qualche modo, con i tanti cambiamenti della storia della nuova Accademia Filarmonica, che cominciò le proprie azioni nel maggio del 1769, conserva al momento in città il fondo musicale più importante della città. Si potrebbe pensare, ci sono le musiche di quella sera in questo archivio? La risposta purtroppo è no, perché molte volte i compositori mettevano sui leggii delle accademie di prova le proprie musiche e le portavano via. Noi possiamo immaginare che i Mozart viaggiassero con un proprio bagaglio di parti, di partiture, che sono state messe anche sui leggii dei nostri filarmonici quella sera del 16 e forse qualche sera prima anche in una serata di prova, che noi non possiamo documentare. Siamo certi che una sinfonia del giovane Wolfgang venne eseguita, probabilmente in due parti, i primi due movimenti all'inizio e gli altri movimenti alla fine. Certamente Leopold puntava a consolidare il presente profilo di talento del figlio, ma anche la sua futura professione.